Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata della Computer Museo Unboxing Recensione. Quest'oggi siamo qui per aprire questo primo pacco, arrivato da una serie di pacchi pure in ritardo. E' arrivato adesso che sono le 7, non so perché in questo periodo vengono sempre di serie e corriere, però vabbè. In teoria dentro questo pacco ci dovrebbe essere le cartucce di ricambio che abbiamo acquistato gratuitamente, anche se le abbiamo qua sotto, ne abbiamo un casino. Dentro questo cassetto ne abbiamo altre. Cioè sono tutti i recensori che ce le danno e in pratica mi trovo praticamente riempito di cartucce. Vabbè, adesso iniziamo con andare ad ambozzarlo. Allora, 1, 2, mancato, mancato, preso. Ok, vediamo, vediamo. Allora, eccole qua. Scatola, tra parentesi, stessa delle altre volte, solo che questa è della Well Pop. Che non so se è Pop perché esplode oppure Pop perché è proprio il nome della marca. Comunque, apriamo. Vediamo cosa ci troviamo. Ci troviamo all'interno un biglietto su scritto grazie di aver acquistato da Well Pop. Ricordarsi che non è originale, i primi yes, bla bla bla, contattati, trova il tuo ordine, il contatto venditore è impossibile di avere. Queste sono le cartucce. Devo dire, sono 20 anche queste, quindi praticamente abbiamo anche qui l'imbarazzo da scelta di tutti i tipi di cartucce possibili. Abbiamo ordinato, oramai abbiamo esattamente 40 cartucce qui, tra nero, giallo, blu, magenta. Cioè, posso stampare fotografie per, cioè, posso mettere su uno studio fotografico di talmente tante cartucce. Vabbè, comunque questi sono dettagli e niente, ci vediamo alla prossima puntata del Computer Museo. Ciao ragazzi!